In questo caso vedremo un esempio di interconnessione problematica tra Wikidata e le voci di autorità dell'Opac SBN, problema che sarà dovuto a una conflazione attualmente presente nell'Opac SBN. L'esempio scelto è quello di Giuseppe Bianca, botanico italiano vissuto nell'Ottocento. Cerchiamo quindi Giuseppe Bianca nell'Opac SBN tramite la ricerca avanzata inserendo come sempre cognome virgola nome Bianca virgola Giuseppe. A parte gli ultimi due risultati chiaramente non pertinenti possiamo dare una veloce occhiata al secondo Giuseppe G. Bianca che come si può vedere fin dal primo risultato sia dall'argomento pedagogia sia dalla data 1973 è sicuramente un'altra persona quindi l'unico Giuseppe Bianca che ci può interessare è quello presente nel primo risultato con 37 record bibliografici. Selezioniamo e diamo invio. Dobbiamo controllare prima di connettere l'identificativo SBN al quale questi 37 record bibliografici fanno capo. Dobbiamo prima controllare che tutti e 37 siano pertinenti sia cronologicamente sia tematicamente alla persona presente in wiki data cioè il botanico. Il primo risultato è pertinente sia cronologicamente sia tematicamente il secondo purtroppo no e un solo risultato errato basta ovviamente a far scattare diciamo la segnalazione che dovrà che indicherà a IQ che gestisce le voci di autorità di SBN rispetto alla loro revisione e sistemazione nel caso di conflazioni duplicazioni ed errori di vario tipo bisognerà segnalare a IQ la presenza di più opere di filosofia del novecento dei primi decenni del novecento affiancate invece ad opere di botanica del pieno ottocento e quindi possiamo notare come ci sia evidentemente una conflazione tra un botanico dell'ottocento e uno studioso di filosofia del novecento sotto un'unica voce di autorità. Ovviamente non possiamo quindi connettere questa voce di autorità che rappresenta una conflazione al nostro elemento di wiki data ma dobbiamo cercare un metodo per segnalare questo problema a IQ. Possiamo quindi entrare nella pagina della proprietà relativa agli autori in SBN alle voci di autorità per gli autori in SBN la P396 e all'interno di questa proprietà troveremo un indirizzo mail questo al quale segnalare questo problema basterà scrivere che sotto Giuseppe Bianca sono conflate almeno due persone distinte un botanico dell'ottocento e uno di filosofia del novecento per poi ottenere nel giro di alcune settimane una correzione. Successivamente avremo quindi un identificativo di SBN pertinente soltanto al botanico che potremo connettere a questo elemento e in tal modo avremo migliorato sia questo elemento di wiki data sia la catalogazione delle diverse persone aventi come nome Giuseppe Bianca all'interno dell'OPAC SBN.